Come si arriva alla diagnosi della miastenia grave, una patologia neurologica rara ma purtroppo molto grave e invalidante? L'abbiamo chiesto al professor Renato Mantegazza che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento che ha fatto il punto proprio su questi temi. Professor Mantegazza, perché la diagnosi di miastenia grave è abbastanza complicata, almeno in una parte dei casi? La diagnosi di miastenia grave in realtà non è così complicata e diventa complicata quando uno non conosce la malattia e quindi deve, come dire, rincorrere troppi specialisti per arrivare poi a una diagnosi definitiva. La diagnosi può anche essere solo una diagnosi clinica e il concetto principale è che la miastenia è governata da due sintomi, la debolezza muscolare e l'affaticabilità muscolare. Ma entrambe questi sintomi hanno una caratteristica specifica di malattia che sono fluttuanti, fluttuanti nel corso della giornata e nel corso dei giorni. Questo è una cosa specifica, altamente specifica, che deve far pensare alla malattia. Poi una volta che uno pensa alla malattia, diciamo così, l'ipotesi può essere suffragata da dati di laboratorio, quali il dosaggio degli anticorpi. Adesso sono almeno tre autoanticorpi che devono essere testati e i dati di neurofisiologia. Ecco, poi magari vediamo meglio questi aspetti. Volevo però chiedere prima chi sono gli specialisti che possono essere coinvolti nella gestione iniziale di una persona con miastenia grave, perché magari si rivolta a lui non sapendo ancora naturalmente di avere la patologia. Allora, lo specialista veramente principale è il neurologo, ma è il neurologo che si occupa di malattie neuromuscolari, perché questo è abbastanza importante da dire. Anche nella neurologia il classico neurologo generalista può non essere in grado di gestire in maniera appropriata sia la diagnosi sia il follow-up. Anzi, per dire la verità, spessissimo non è per niente confidente con lei. Invece spesso il paziente, come primo riferimento, ha l'oculista, perché le manifestazioni iniziali spesso sono a carico dell'occhio. L'oculista che cosa può fare in questa fase? L'oculista quello che deve fare è capire immediatamente che è la diplopia, di cui spesso il paziente ha e l'abbassamento della palpebra, cioè l'aptosi palpebrale, sono fluttuanti e nella stragrande maggioranza dei casi un disturbo diplopico e di pertinezza del neurologo e quindi deve dire vai dal neurologo. Ecco, professore, una volta che questa persona arriva da voi, arriva dal neurologo, quali sono appunto gli esami, lei li stava un po' accennando, quali sono gli esami di rimenti per confermare in maniera definitiva, al di là dell'esame clinico, che ci ha già un po' spiegato, ma per avere la conferma definitiva della diagnosi? Beh, adesso come adesso, la cosa principale è fare il dosaggio degli anticorpi, e quindi sono dosaggi degli anticorpi antirecettori dell'acetilcolina, anti-musc, che è una tirosina muscolo, una kinasi muscolo specifica, e gli LRP4, che è un'altra di queste proteine che servono per l'assemblaggio del recettore sulla membrana post-sinaptica. Altri test sono quelli neurofisiologici, ma non l'elettromiografia normale, di base, deve essere il test di stimolazione ripetitiva a bassa frequenza, o l'elettromiografia a singola fibra. Professore, questi test sono a pannaggio solo dei centri ultraspecialistici, come il Besta, dove lavora lei, oppure sono piuttosto diffusi su tutto il territorio nazionale? No, la neurofisiologia è diffusa su tutto il territorio nazionale, naturalmente a singola fibra è possibile farla solo in piccoli centri più specializzati, quindi la stimolazione è ripetitiva, è diffusa e la può fare chiunque, la singola fibra ci vuole un neurofisiologo che sappia farla, che sia trainato a fare questa. Senti, professore, per finire le chiederei un messaggio per il medico di famiglia, che naturalmente è in prima linea nella cura della nostra salute, quali sono i red flags, quindi le bandiere rosse, che non può non trascurare per dire immediatamente a questa persona vai dal neurologo, ti prescrivo una visita specialistica perché c'è qualcosa che non mi piace? Il red flag principale, come ho detto prima, è la fluttuabilità dei sintomi, invece di pensare che il malato è fondamentalmente un malato psichiatrico, deve prendere in considerazione il fatto che possa essere un malato affetto da miastenia, se naturalmente i sintomi sono quelli caratteristici di questa malattia. Quindi quelli a carico dell'occhio principalmente? Occhio, debolezza dei muscoli, difficoltà a masticare, deglutire, anche difficoltà a respirare.